I complotti esistono, esistono nella vita quotidiana di ciascuno di noi a livello magari familiare ed esistono a livello di Stato. La complottologia in realtà è semplicemente una trasposizione in forma quasi religiosa di questi complotti, cioè al complotto tu o credi o non credi, essendo per definizione indimostrabile, allora tu dai per credibili o comunque attendibili degli assunti di complotto che però non puoi dimostrare perché non hai dati verificabili e quindi pensi per esempio, non so, che i cinesi hanno fabbricato il Covid-19 per dominare il mondo o che gli americani si sono buttati le torre gemelli giù da soli per poter ancora una volta dominare il mondo. Poi ovviamente un analista deve guardare queste cose non con il rifiuto, perché poi queste cose hanno un impatto nella realtà, anche se non sono reali, impattano nella realtà, quindi le devi studiare, le devi capire, ma come cose che obiettivamente non possono partecipare di un discorso davvero razionale perché appunto presuppongono il fatto che tu ci creda. Se tu ci credi entri in una dimensione appunto complottologica o comunque di narrazione non basata su fatti verificati, che ha però spesso un impatto fondamentale sulla storia, sulla geopolitica. Faccio un esempio, durante la Prima Guerra Mondiale c'era il mito dei famosi tiratori franchi belgi, franchi tiratori belgi che sparavano sulle truppe che attraversavano il confine per andare in Francia. Nulla di vero, nulla di dimostrato, però su questo ci fu tutta una produzione mediatica, politica, molto molto rilevante, su cui poi uno storico francese famoso, Marc Bloch, scrisse un saggio molto interessante. Si possono citare molti altri casi di cose che non sono in realtà mai avvenute, ma che hanno avuto un peso pratico nella storia. E allora, caro Lucarelli, sei un esperto di misteri con le tue trasmissioni televisive. Allora, qual è la tua opinione al riguardo? Beh, io sono uno scrittore di Gialli, quindi sono un complottista per natura, però ovviamente all'interno della narrativa. Il complotto è sempre qualche cosa che funziona come spiegazione di quello che sta succedendo, perché fa una serie di cose che innanzitutto ti scarica dalle responsabilità, perché in genere il potere forte, quello che sta dietro, il complotto non sei mai te, che non sei niente, non sei quello, non sei poterlo, ma sei una vittima. Quindi da quel punto di vista tutto quello che succede non è colpa mia. Poi attribuisci tutto quello che è successo a qualcuno, una figura fantomatica che in genere riveste le caratteristiche di quello che non ti piace, di quello che ti sta antipatico, delle difficoltà che incontri nella tua vita. Allora ecco che il grande vecchio, i poteri forti, i cosiddetti, sono quelli là che non mi piacciono. Che poi è comunque una tematica che è sempre affascinante, perché quando hai costruito tutto questo riesci ad avere la speranza di poter attingere alla verità. Perché se c'è un complotto ci sono persone che hanno complottato, che non mi piacciono, che non sono io. Se ci sono delle persone prima o poi le scoprirò. Una volta scoperte queste persone, tutto ritorna alla logica naturale delle cose. Un po' la vecchia logica del giallo classico. Scoperto l'assassino torna tutto a posto. Ecco, questo però funziona ovviamente con bellissimi romanzi gialli, bellissimi romanzi gialli transnazionali, che hanno a che fare con cose che realmente esistono. Noi scriviamo di criminalità, è diventato quasi impossibile scrivere di criminalità esclusivamente nazionale. Parliamo di mafia, parliamo del mondo naturalmente. Quindi alcune cose esistono. Però poi, certo, se vuoi alzare i toni e creare quella mitologia del complotto, fai presto e funziona, come dicevo anche prima. Non è la spiegazione della realtà naturalmente. Perché le teorie complottiste saltano sempre un piccolo dettaglio. Tu passi da A a B e la cosa funziona. Poi una coincidenza che ti fa passare a C, poi passi direttamente a Z. Dimenticandoti di una domanda molto semplice che è quella che non funziona nella narrazione, quando la costruisci male. Ci poteva essere un'altra spiegazione più semplice. Perché architettarsi un delitto perfetto, pieno di problemi, con un insieme di complicità, quando semplicemente sarebbe bastato suonare la porta e sparare la vittima e andarsene. Il giallo si è trovato tante volte di fronte a questo problema. Ho costruito una costruzione bellissima, enorme, ma non ha senso. Perché si poteva fare benissimo in un altro modo. Allora è il caso che governa tutto. La realtà è in pericolo perché queste teorie complottiste, questi modi, questi fake news, tutte queste cose qui che raccontiamo, nei libri sono meravigliosi. Funzionano purtroppo così bene anche nella realtà, nella mente di molte persone che le ascoltano. Poi c'è il vantaggio che in ogni caso il complotto è una cosa semplice, che si capisce. È tutto chiaro fin dall'inizio, come è fatto a non capirlo prima. Quello che poi mi colpisce sempre in queste teorie è capire come si possa immaginare che un complotto possa essere davvero tenuto segreto in questo mondo. Quando si dice per esempio che gli americani non sono mai andati sulla Luna. Va bene, mettiamo che era tutta una messa in scena hollywoodiana. Dopodiché come hai fatto a mettere d'accordo alcune migliaia di operatori di Houston, astronauti, giornalisti che erano lì? Ci vuole veramente uno sforzo di fantasia notevole?